Sì, diciamo che il 23 novembre scorso 2020 è nata Conf Cooperative Romagna e oggi Neri insieme a Coriacci e a Brolli che sono i rappresentanti politici di questa nuova organizzazione che unisce la Conf Cooperative di Rimini, Ravenna e Follicesena è venuto a fare la visita anche perché si vuole rendere conto sul territorio come stanno le cooperative aderenti a Conf Cooperative e quali sono le loro istanze da portare anche al tavolo della Confederazione per aiutare a fare crescere e a mantenere i lavori di queste cooperative. È stato un confronto molto bello, siamo partiti dalla descrizione di come sta andando questa situazione e come la cooperativa sta gestendo la situazione in emergenza sanitaria ma il confronto si è allargato anche da altri temi. Sì, siamo partiti da descrivere quali sono le nostre attività principali, abbiamo sottolineato come oggi la cooperativa La Formica ha come settore più importante il settore ambientale e abbiamo ragionato molto e siamo contenti di questa loro apertura e questo loro ascolto sulla grande problematica legata al contatto di lavoro quindi questo tema un po' del contatto di lavoro e comunque anche il nostro intento di mantenere e sviluppare questo settore anche nei prossimi anni. Grazie a tutti!